Devi sapere che molte persone mi prendono quotidianamente in giro per l'enorme mazzo di chiavi che mi porta attaccato alla cintura tutti i giorni. Ci sono alcuni miei parenti che addirittura intuiscono che sto arrivando semplicemente udendo il tintinnare del mio buon umore, parafrasando Guccini. Ancora peggio di me però sono messe quelle persone che oltre alle chiavi devono andare in giro con un mazzo colossale di radiocomandi uno per ogni automazione che si trovano quotidianamente a dover azionare durante il loro giorno. È per i tuoi clienti con questo problema e per te che faccio il video di oggi. Ciao io sono Federico, aiuto aziende, elettricisti e installatori a realizzare sistemi di sicurezza senza preoccupazioni, vendendo loro prodotti ed insegnando loro ad essere indipendenti in ogni fase dell'installazione. Hai mai visto Il Signore degli Anelli, nello specifico l'ultimo film della trilogia cioè Il Ritorno del Re? In una scena verso la fine del film il protagonista Aragorn arringa il suo esercito prima della battaglia finale con un celebre discorso. Voglio ispirarmi a lui dicendoti che forse verrà il giorno in cui i radiocomandi non saranno più necessari e la app li sostituirà al 100%. Ma non è questo il giorno. Il radiocomando per ora è ancora insostituibile. Devo dirti che io per primo, che mi reputo una persona tecnologica, una persona smart ho ancora i miei bei radiocomandi per le automazioni che mi trovo a gestire nella mia vita quotidiana. Ma come posso eliminare questi antiestetici e scomodi mazzi di radiocomandi e unire in un unico oggetto più radiocomandi tra di loro, che siano essi a rolling code o a codice fisso? Esistono radiocomandi capaci di fare questo. Esistono radiocomandi che possono, su alcuni pulsanti, copiare la maggior parte delle marche dei radiocomandi a rolling code più i codici fissi delle varie frequenze. A proposito di frequenze, ti ricordo che i radiocomandi per l'automazione attualmente possono legalmente utilizzare o i 433 MHz o gli 868. Tuttavia ti capiterà di trovare in giro tantissimi radiocomandi vecchiotti che usano frequenze da 290 a 360 MHz, i cosiddetti frequenza libera oppure dai 29 e 70 fino ai 40,90 MHz, i cosiddetti quarzati. Nonostante questi radiocomandi non siano più a norma, ti potrà capitare di doverli copiare su impianti vecchi o di doverli mantenere laddove il cliente sia in possesso di molti radiocomandi perfettamente funzionanti. I radiocomandi multifrequenza servono proprio a questo. Tu potrai avere sul tasto 1 un automatismo della FAC in 868, sul tasto 2 una frequenza libera a 290 MHz, sul tasto 3 un codice fisso a 433. Io vendo un paio di radiocomandi che sono capaci esattamente di fare questo e quindi di eliminare dal mazzo di chiavi del tuo cliente tutto questo peso di radiocomandi ognuno per ogni singola automazione. A questo punto lo so, sei già caldissimo e io devo solo tirar fuori la coppia commissione e annotare quanti te ne servono e quanti te ne devo spedire. Lascia però che ti dia anche qualche suggerimento commerciale su come vendere questo tipo di soluzione per evitare poi incomprensioni con il tuo cliente. Questi radiocomandi infatti non sono né magici né fatati, sono assoggettati alle stesse regole di duplicazione dei rolling code padri relativi alla singola automazione. In altre parole, se FAC prevede un determinato tipo di duplicazione, col mio radiocomando dovrai seguire esattamente la stessa tipologia di duplicazione. Esempio su tutti, se per duplicare il radiocomando serve un master e quel master puntualmente è andato perduto perché come sempre accade soprattutto nei condomini il master non si trova mai, col mio radiocomando non ci farai un beato nulla. Quindi nel dubbio fai al tuo cliente già una doppia proposta commerciale strutturata così. Opzione A, provo a duplicare il radiocomando con il mio, ci riesco, prezzo A. Opzione B, provo a duplicare il radiocomando col mio, non ci riesco perché manca il master, perché la ricevente è bloccata per qualsiasi motivo che impedisca la duplicazione di questo radiocomando rolling code. Allora ti installo una ricevente mia in parallelo con la quale poi potrò venderti i miei radiocomandi e con la quale tu potrai mantenere contemporaneamente attivi tutti i radiocomandi vecchi e ancora funzionanti. Quindi non dovrai cambiare tutti i radiocomandi ma dovrai semplicemente comprare i nuovi. A quel punto proporrai un prezzo B con questo tipo di operazione. In questo modo dirai prima al cliente che potrà esserci un problema, avrai una doppia proposta e avrai la probabilità doppia di portare a casa il lavoro e di evitare problemi, incomprensioni e infelicità del tuo cliente. Ti piacerebbe ricevere altri suggerimenti e altre guide come queste? Allora la cosa da fare è registrarsi subito con la tua miglior mail su www.altretensione.net e ricevere tutti i bonus gratuiti che abbiamo riservato per te. Inoltre se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al nostro gruppo Facebook riservato dove tra l'altro troverai tutte le nostre dirette che io pubblicherò e farò solamente lì. Ciao e al prossimo video! Chissà quando troveranno una soluzione anche per le chiavi. Ciao!